Un'autodidatta, si è fatto da solo, ha una carriera ormai che è all'apice di YouTube e stai sui canali streaming e tutto il resto. Volevamo un consiglio per questi giovani napoletani che tu daresti dal tuo cuore. Che cosa gli vuoi augurare? Ma un consiglio per cosa? Per la vita? Per la vita, per come diventare un blogger famoso come te. Ah, secondo me il segreto, non esiste un segreto per diventare uno YouTuber famoso perché io, non è che mi è arrivato dal Signore Gesù Cristo e nemmeno ho venduto l'anima al diavolo. Semplicemente ho trasmesso quello che io sono online. Quello che prima le persone vedevano nel privato, adesso lo vedono in tutta l'Italia. Quindi il mio consiglio è quello, fate veramente quello che vi piace fare. Se vi piace fare commesso, se vi piace fare l'imprinto, se vi spiace fare l'insegnante, fate quello che vi piace fare. Ecco, giustamente come dice lui, è un consiglio molto passionale. Se avete la passione per una qualsiasi cosa, buttatevi con tutto il cuore. Ok? Io ti ringrazio, sei stato veramente gentilissimo. Bravo, grazie. E il nostro giornale, Napoli News Magazine, ti ringrazia. Ti auguro il meglio per la vita e per tutto. Grazie. Grazie. Baccia, ciao.